Ehi, hai una buona mira? Ehi, tu! De qui! Hai un'arma? Ma la sai usare? Che domande sono in un posto così? Già, ci dai una mano? I cani di questa zona sono molto feroci. Si muovono in branchi. Uno si sta comportando in maniera strana. Sai, qualche anno fa il mio cane si è preso la rabbia. Mordeva di tutto, si spaccava i denti, schiumava, abbaiava, faceva il pazzo. E pensi che abbia la rabbia? Una cagna. Sì, l'ho vista oggi. Il mio cane aveva lo stesso aspetto. Dimmi dove trovarla. Grazie. Ma attento. Quella cagna è la capobranco. Gli altri cani la evitano, ma il resto del branco sarà lì vicino. Gli altri cani la evitano. Gli altri cani la evitano. Gli altri cani la evitano. Grazie. 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 Cazzo. Cazzo. Che schifo. Grazie. 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 Grazie.